Ciao a tutti, benvenuti a Traccia per Traccia, io sono Giovanni Caccamo e in questo racconto vi sto parlando un po' delle tracce che fanno parte del mio nuovo album, Non Siamo Soli. Siamo arrivati alla traccia numero 3, che è Via da Qui, il brano che presentiamo con Debora Iurato al Festival di Sanremo e che state già ascoltando in giro. Questo brano è stato scritto da Giuliano Sangiorgi, sono andato in Puglia nel mese di luglio per incontrare lui, per scrivere un po' insieme e una sera mi fece ascoltare questo provino che mi piacque moltissimo, aveva una magia indescrivibile, così erano circa le 10 di sera, ci siamo seduti al pianoforte e abbiamo realizzato una demo in 5 ore, quindi alle 3 di notte abbiamo finito di registrare questo provino e mi resi conto di avere tra le mani un pezzo importante del mio percorso musicale. A settembre sono entrato in studio con tutti i pezzi del mio album, tra cui anche Via da Qui. In una giornata in cui presente con me in studio c'era anche Debora Iurato, mia cara amica, mi sedetti al pianoforte e iniziai a suonare. Lei si avvicinò e iniziò a cantare questa traccia che era tra l'altro una delle sue preferite del mio album, così nacque questa magia indescrivibile e decidemmo di andare al festival di Sanremo insieme. L'essenza di questo pezzo è la parola scusa, oggi c'è una difficoltà a mettere da parte l'orgoglio nelle relazioni che hanno qualche problema e chiedere scusa, questa piccola parola magica può risolvere molti conflitti, sia nelle relazioni d'amore, sia nelle relazioni d'amicizia, sia nei conflitti sociali. Quindi il messaggio è imparare a mettere da parte l'orgoglio e chiedere scusa. E ora tutti Via da Qui. Ciao, alla prossima!